E allora, come vi accennavamo, abbiamo un illustre e graditissimo ospite in collegamento con noi, è Monsignor Michele Pennisi, assistente della Confederazione delle Confraternite Religiose. Buongiorno, eccellenza, ben trovato. Ben trovato a lei. Un saluto a tutti i telespettatori. Grazie. E ormai da un po' che stiamo parlando del pellegrinaggio nazionale che avrà luogo a San Giovanni Rotondo tra il 9 e il 10 novembre. Non vediamo l'ora perché sappiamo che saranno tantissime le persone che si regheranno nella città di San Pio. La regia ci condivide in questo momento la bellissima grafica che porta anche il titolo del pellegrinaggio in cammino come pellegrini di speranza verso il giubileo perché ormai manca davvero pochissimo, eccellenza. Bene, è un'iniziativa importante, diciamo un'iniziativa nazionale alla quale sono invitate tutte le confraternite aderenti alla nostra Confederazione che sono oltre 3.000. È un momento in cui ci prepariamo al giubileo del prossimo anno che ha come tema pellegrini di speranza e ci raduniamo proprio a San Giovanni Rotondo una città molto significativa sia per la presenza di Padre Pio perché ci richiama alla penitenza, alla conversione, alla preghiera a quei valori fondamentali che costituiscono anche l'esperienza delle confraternite. Il pellegrino non è mai un camminatore solitario ma uno che si mette in cammino assieme ad altri e le confraternite proprio vogliono manifestare pubblicamente la propria fede mettendosi in cammino verso un santuario il santuario della Madonna delle Grazie dove è sepolto Padre Pio per ritornare un po' alle origini le confraternite sono una realtà popolare e quindi veramente aver scelto San Giovanni Rotondo è molto importante. Il senso del pellegrinaggio cristiano essere in cammino alla scoperta dell'amore di Dio ma anche alla scoperta di noi stessi attraverso un viaggio interiore che deve però far sì che si vengano moltiplicate le relazioni in un periodo in cui domina l'individualismo le confraternite vogliono dare un messaggio di speranza assieme perché vogliono invitare tutti a essere testimoni di speranza in un periodo in cui tra le guerre, tra le situazioni economiche le situazioni climatiche ci sono tanti motivi per non essere contenti ma noi cristiani per natura a partire dalla risurrezione del Signore siamo pellegrini di speranza ed è un messaggio che vorremmo trasmettere anche attraverso questo pellegrinaggio nazionale che si svolgerà sabato 9 novembre dove sarà accolto l'immagine della Madonna madre della speranza delle confraternite ci sarà un momento formativo e poi domenica 10 novembre ci sarà la celebrazione eucaristica preseduta dall'arcivescovo di Vieste San Giovanni Rotondo Monsignor Franco Moscone e quella quale ci auguriamo possano partecipare molte confraternite da ogni parte d'Italia grazie eccellenza davvero bellissime parole le sue che condividiamo in pieno anche bellissime immagini Maria Pia che abbiamo visto scorrere mentre sua eccellenza ci raccontava di questo evento e che testimoniano questo respiro corale appunto che le confraternite esprimono benissimo realtà meravigliosa buongiorno la saluto di nuovo anche qui in diretta eccellenza ma oggi corre l'obbligo di ricordare anche con lei grazie alla sua presenza Giovanni Paolo II ci vuole dare un ricordo un Papa che ho la fortuna di conoscere di incontrare più volte perché durante il suo pontificato sono stato sette anni a Roma proprio durante il grande giubileo del 2000 è un ricordo veramente di un Papa Santo ecco il Papa ecco che ci ha invitato a spalancare il nostro cuore a Cristo il Papa che ha viaggiato in tutto il mondo e che soprattutto è stato colui che ha incoraggiato tanti giovani a incontrare Gesù Cristo e quindi mi pare molto importante anche perché sappiamo che San Giovanni Paolo II era molto legato proprio a Padre Pio ecco da vescovo aveva scritto quindi mi pare che c'è un rapporto molto stretto tra Padre Pio e San Giovanni Paolo II noi di questo abbiamo parlato e riparleremo io vorrei qualcosa che solo lei può darci cioè ricordi personali allora io ho avuto la fortuna di incontrare ogni anno incontravo il Papa per sette anni quattro volte l'anno ma in modo particolare ecco ricordo l'udienza privata che mi ha concesso e nell'anticamera c'era Madre Teresa di Calcutta è stata l'ultima volta che Madre Teresa ha incontrato il Santo Padre e poi ricordo una cena col Santo Padre in cui ecco il Santo Padre ecco mi chiedeva se doveva farmi vescovo in quanto rettore del Capranica e io ho detto guardi che il migliore rettore del Capranica non è stato vescovo che era il rettore del Cardinal Ruini e poi un'altra domanda che mi ha fatto il Papa quanti vescovi, quanti papi sono usciti dal Capranica ho detto due ecco Benedetto XV e Pio XII ci sarebbe stato un terzo il siciliano Cardinale Rampolla del Tindaro se non ci fosse stata l'opposizione dell'allora arcivesco di Cracovia che a nome dell'imperatore d'Austria si oppose alla candidatura del Cardinale appunto siciliano perché lo riteneva amico dei francesi e dei russi comunque ecco tanti ricordi e tanti ricordi di questo Papa Santo che veramente è un grande Papa che ha lasciato in tantissimi giovani veramente un ricordo magnifico e che durante il suo pontificato ha fatto sì che tanti giovani attraverso le GMG si potessero accostare a Cristo e tra l'altro appunto ricordiamo veramente memorabile la visita di Giovanni Paolo II nella sua Sicilia lei sicuramente avrà appunto anche qui qualcosa da aggiungere una sua testimonianza personale ma certamente ecco diciamo quello che ricordo è soprattutto quel grido che ad Agrigento il Papa ha lanciato per invitare i mafiosi alla conversione convertitevi un giorno arriverà il giudizio di Dio io ero presente sia a Cattanissetta sia ad Agrigento ed è stato veramente diciamo un grido importante ecco che ecco anche originale ecco diciamo in base al messaggio evangelico in cui il Papa ha invitato ecco i mafiosi a convertirsi a cambiare vita perché cambiando vita ecco avrebbero evitato ecco quello che il Papa ha detto ecco l'inferno mi pare importante questo messaggio del Papa un messaggio che è stato ripreso molte volte ecco ed è un messaggio ecco proprio anche in qualche modo vicino al messaggio di Padre Pio con l'invito alla conversione grazie eccellenza lo dicevamo prima tante le immagini ricordi che conserviamo di questo Papa straordinario a me il compito di ritornare sull'evento del 9 del 10 novembre a San Giovanni Rotondo prima di salutarci lo faccio ecco anche invitando chi ci segue a collegarsi sul sito ufficiale della Confederazione delle Confraternite che è appunto confederazioneconfraternite.org dal quale si può attingere anche alla rivista della Confederazione uno strumento non solo per tenersi aggiornato sulle varie attività ma anche ecco per fare il punto su questo grande evento ormai alle porte dunque vi aspettiamo a San Giovanni Rotondo eccellenza benissimo benvenuti tutti a San Giovanni Rotondo grazie per la sua disponibilità la sua presenza stamattina che ci ha senza dubbio arricchito anche con ecco questi preziosi ricordi che ha voluto condividere con noi dunque questo è semplicemente un arrivederci a prestissimo beh grazie Maria Piero vuoi salutare anche tu? certamente grazie ancora eccellenza grazie a lei grazie ai servizi che state facendo anche perché ecco sia ecco la fiaccolata del sabato come la messa saranno trasmesse dalla vostra emittente di questo vi ringrazio sentitamente certo certo poi di quelle conversioni riparleremo dal messaggio ai fatti vogliamo conoscere torneremo a parlare torneremo a parlare senza dubbio anche di questo straordinario pellegrinaggio che come detto avrà luogo a San Giovanni Rotondo tra il 9 e il 10 novembre lo faremo anche attraverso altri interlocutori della confederazione il presidente Rino Bisignano e i vari vicepresidenti per le aree nord, centro e sud Italia ora ci fermiamo ancora per qualche istante poi Maria Pia ritorneremo insieme con un altro graditissimo ospite sì